Elianthus Elianthus nasce dall'idea di un gruppo di musicisti che dopo aver suonato per tanti anni in un ensemble diversi, in situazioni diverse, decidono di mettersi insieme e fare una cosa più personale o una cosa nuova, in un certo senso. La novità in realtà principale dal punto di vista dell'organico dell'ensemble nasce da questa idea di sperimentare la presenza del flauto traverso nel repertorio del 1600 e quindi inserire il flauto traverso in un gruppo insieme a un violino e un cornetto. Elianthus vuol dire girasole, quindi è molto semplicemente proprio un fatto di suono, ci piaceva il suono e ci piaceva il fiore. Questa mia motivazione di ricerca è sicuramente stato un po' il traino di tutta l'operazione, ma la volontà di fare qualcosa insieme era condivisa da tutti, insomma. Il nuovo si può effettivamente identificare con questa sperimentazione, diciamo, sui flauti traversi del XVII secolo, di cui sappiamo poco, perché sono molto pochi gli strumenti rimasti, e di cui non abbiamo dei dati precisi su quale repertorio venisse eseguito. Verificato che la sonorità ci convinceva, siamo andati avanti, questo per dire che poi ovviamente uno parte da una ricerca, anche musicologica, ma poi ovviamente c'è un aspetto fisico, direi, del fare musica che è inevitabile. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti.